A Chieti adesso, dove la trasformazione dell'ex asilo Peter Pan ha diviso il comune che è proprietario dell'immobile e l'ASL che è destinataria della struttura. A fare da pacere fra il sindaco Diego Ferrara e il manager dell'ASL Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schell, è intervenuto il prefetto Armando Forgione. Oggi riunione in prefettura seguita per noi da Anna Di Giorgio che ho in collegamento in diretta. Pronto? Buongiorno Anna. Sì Marina, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori del TG8. Con la telecamera di Andrea Berardinelli in questo momento ci troviamo a Chieti in Corso Marrucino. Alle nostre spalle potete vedere il palazzo, l'edificio della prefettura di Chieti dove questa mattina il prefetto Armando Forgione ha convocato il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, e il direttore generale dell'ASL di Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schell. Oggetto di questo incontro la destinazione d'uso dell'ex asilo Peter Pan di Madonna delle Piane di Chietiscalo, che è stato individuato come sede, come edificio in cui effettuare la campagna vaccinale anti-Covid. Una comunione di intenti che c'era stata inizialmente sia tra comune ed ASL ma che poi è venuta in qualche modo a mancare nel momento in cui si è pensato al prosieguo della destinazione d'uso di questo edificio. Per cui per mettere a posto tutti i vari tasselli è intervenuto il prefetto che oggi ha convocato sia il direttore Schell che il sindaco Ferrara ed è emerso effettivamente che questa struttura, l'ex asilo Peter Pan, sarà la sede della campagna vaccinale anti-Covid e poi avrà una destinazione d'uso che insomma ci hanno rivelato nelle parole che abbiamo ascoltato subito dopo questa riunione sia il direttore generale Thomas Schell che il sindaco Diego Ferrara che ci hanno rivelato proprio quanto segue. Ascoltiamo allora l'intervista e poi Marina ti restituisco la linea. Allora la pace è stata fatta, il prefetto vi ha messo d'accordo? La pace c'era già prima, non ho mai litigato né tra Comune con l'ASL né l'ASL con il Comune. C'è stata chiaramente una convergenza sull'interesse di entrambi gli enti in un rapporto interistituzionale. Appunto il Peter Pan sarà centro vaccinale a breve, poi quando finisce la pandemia sarà usato per un servizio distrettuale in attesa che la stazione sarà alivita a distretto di base di Chieti Scalo e poi una volta che si trasferisce il distretto nella stazione diventerà consultorio familiare. Il sindaco è soddisfatto? Allora sono soddisfatto, lo ero già. Quello che molti mass media hanno fatto passare come litigio o contrapposizione era solo un modo di capirci maggiormente. La riunione di questa mattina, il tavolo di questa mattina ha confermato la nostra convergenza. Per l'ASL eravamo pronti ad aprire altri punti vaccinali, solo che per il momento la penuria di vaccini e anche la impossibilità di infrastrutture importanti da un punto di vista tecnico, medico e scientifico per allestire questi altri punti vaccinali non lo permettono. Però la sinergia c'era, c'è e continuerà ad esserci e il Comune ha dimostrato già con le campagne di screening di massa tutta la sua forza e tutta la sua aderenza alle esigenze della popolazione. Direttore, quindi quando partirete con questa campagna vaccinale all'interno del Peter Pan? Noi avevamo fatto già un appello congiunto per le donazioni o in natura o in soldi per cui si sono reso disponibili delle imprese che faranno un primo lotto di ristrutturazione per cui fra 4-6 settimane, visto che l'accordo è stato raggiunto oggi, noi avremo già due ambulatori vaccinali al Peter Pan in una seconda fase che è un pochino più impegnativa e gli ambulatori saranno 4-5 per cui sicuramente fra qualche settimana quando i vaccini dovrebbero arrivare in grande numero potremo vaccinare al Peter Pan tra un mese, mese e mezzo fino a fine campagna. Nel frattempo dove vaccinerete? Nel frattempo vacciniamo al vecchio ospedale di Chieti, a Chieti Alta dove abbiamo vaccinato stamattina 1.400 anziani ovo 80 un numero impegnativo sui 4.000 avendo diritto incominciamo domani a vaccinare al Palauda dell'università che ci ha dato non solo il Palauda ma ci aiuterà anche con personale non solo amministrativo ma anche sanitario domani viene un gruppo di volontari da Padova che faranno altri mail anziani e la prossima settimana finiremo tutti i loro 80 che si iscrivono nella piattaforma. Sindaco, un'ultima battuta, voleva dirci che? Sì, allora, intanto che tutti i volontari delle protezioni civili e delle associazioni di protezione civile che stanno dando una mano da tantissimo tempo alla ASL sono estremamente preziosi dipendono ovviamente dall'amministrazione comunale e a loro va il mio applauso orgoglioso da sempre senza gli uomini delle associazioni di protezione civile molte cose non si sarebbero potute fare e altrettanto andremmo molto a rilento per quanto riguarda le vaccinazioni.